ciao oggi ti mostro un esercizio per andare a rinforzare i muscoli di tirata e propedeutico per imparare il front lever te lo mostro in versione semplificata quindi versione tac l'ice cream maker si esegue in questo modo prendo la sbarra presa prona porto il mio petto su grande 90 gradi in questa posizione allungo le braccia e riporto il petto alla sbarra allungo e porto l'importante durante l'esecuzione dell'esercizio a mantenere sempre le spalle basse per attivare il gran dorsale inoltre arrivare sempre a bloccare i gomiti quindi nella fase di discesa vado sempre ad andare in lock con i gomiti mettili in pratica ti darà dei grossi benefici per rinforzare i muscoli di tirata quindi anche per migliorare le trazioni in più ti farà avvicinare al front lever ciao